Prestazione d'orgoglio e tre punti che fanno ben sperare per il futuro. Torna al successo il Nardò e lo fa soffrendo tra le muramiche del Giovanni Paolo II contro un ostico e volitivo Francavilla. Una vittoria che rilancia le quotazioni salvezza dei neretini. Inizio di gara da incubo per il Nardò che dopo tre minuti subisce il vantaggio ospite. Puntoriere fa sponda per Nole che esplode il destro dal limite, imparabile per Mirarco. Colpiti a freddo e granata si riversano in avanti alla ricerca del pari. Al diciassettesimo la punizione di Calemme termina di poco alta sopra la traversa. Poi il colpo di testa di stranieri su angolo di Calemme finisce tra le braccia di Caruso. Al trentunesimo ci prova monta aperto dal limite e il portiere Lucano respinge come può. Il pari è nell'aria ed arriva al trentottesimo. Cancelli recupera palla, assalta un avversario e con un preciso diagonale trafigge Caruso per l'1-1. La prima frazione si chiude con un tentativo dalla distanza di Calemme bloccato senza problemi dal portiere Lucano e una punizione dal limite calciata da puntoriere che termina alta sopra la traversa. Ad inizio ripresa è sempre Nardò in proiezione offensiva. Al cinquantanovesimo ci prova ancora Calemme su punizione dalla distanza e il pallone sfiora il palo alla destra di Caruso. Alla mezz'ora il portiere Lucano si rende protagonista di un vegnale fallo su Gianfrellotti. Per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto Calemme non perdona e fa esplodere di gioia il Giovanni Paolo II e Sultanza natalizia per il calciatore neretino. Nel finale il Francavilla si butta in avanti alla ricerca disperata del pareggio ma Mirarco chiude la saracinesca sino al tripice fischio che sa di liberazione per il popolo neretino. Il Nardò sale a quota 18 punti in classifica e dopo la sosta ospiterà il Gravina per un'altra avvincente sfida salvezza.